signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite questo canale altro video per la serie sulla cultura del gioco di ruolo anche se in realtà questa settimana non andremo a parlare in nessuna cultura specifica quanto più che altro di un aspetto generale che riguarda tutte le correnti culturali scuole di pensiero come volete chiamarla all'interno del mondo di gioco di ruolo man mano che i video uscivano infatti mi sono arrivate un sacco di domande su quali fossero i regolamenti che servissero per giocare a una specifica cultura e ho visto anche discussioni su facebook anche sullo stesso gruppo telegram della community quello che trovate in descrizione ho visto gente che discuteva e da tutte le discussioni che ho visto la domanda che mi sono state fatte credo ci sia qualcosa di cui bisogna parlare in maniera specifica il fatto è che per quanto sicuramente esistano manuali che si adattano meglio di altri a un determinato tipo di gioco non è tanto qual è il regolamento che state portando al tavolo a definire la cultura di gioco che definisce quello che state facendo quanto più che altro il modo in cui giocate il modo in cui organizzate anche perché soprattutto come dice il titolo di questo video i manuali per forza di cose restano sempre indietro ora andiamo con calma e cominciamo dalle basi sicuramente ripeterò delle cose che ho già detto ma vista la confusione che c'è voglio essere il più chiaro possibile se avete seguito la serie probabilmente qualcosa avete già sentito per prima cosa ho visto molte persone che rimanevano confuse tra quelle che sono le sei culture il gioco di ruolo secondo il metodo di classificazione del retired adventurer e quelle che sono le denominazioni commerciali dei giochi di ruolo quando andate a una fiera quando andate in ludoteca quando comprate un manuale su internet può darsi che lo trovate definito lo trovate letteralmente scritto sulla copertina come manuale osr manuale new gen story narrativo più raramente ma alcuni manuali scrivono in copertina tradizionale gioco di ruolo per tot giocatori ora quelle sono le definizioni commerciali normalmente osr trad e new gen poi possono essere le distinzioni ecco quelle fanno riferimento al tipo di framework che il gioco propone cioè al tipo di regole che sono contenute in quel manuale e servono a voi per valutare l'acquisto se voi sapete che avete già giocato a un gioco osr e vi è piaciuto andatevi a cercare un altro gioco e dica osr probabilmente sarà simile se dice new gen probabilmente sarà molto diverso chiarito questo però una volta che voi avete in mano il regolamento non è che quello che c'è scritto sulla copertina vi costringe a giocarlo in un certo modo sicuramente un manuale scritto per essere categorizzato commercialmente come osr si adatterà molto meglio se voi volete portare al tavolo un'avventura basata principalmente sul dungeon crawling esplorazione delle mappe con un regolamento molto leggero e un focus su le azioni immediate dei giocatori magari avrà dentro anche tante tabelle per generare in maniera procedurale l'intera ambientazione ora però non è che a voi per qualche motivo è proibito inserire una trama lineare dare un particolare focus su la narrazione la storia personale dei singoli personaggi potreste benissimo farlo c'è un sacco di gente che lo fa e nonostante stia usando un manuale dichiaratamente osr nella pratica sta gestendo una campagna puramente tradizionale semplicemente con un regolamento più leggero quando qualche mese fa ne abbiamo discusso all'interno della community del canale del master k e simius ludens che in realtà un collega un altro youtuber aveva appunto fatto notare come i regolamenti pbti played by the apocalypse che tecnicamente sono espressamente considerati manuali new gen story game per come li abbiamo definiti noi nella pratica per la loro resa al tavolo sono molto più simili a un gioco tradizionale sia per come vengono utilizzati sia per le storie che ci vengono raccontate dentro rispetto a qualcosa di molto più new gen qui sul canale per esempio abbiamo dedicato una serie a microscope che sicuramente non potrebbe mai essere confuso con nessun altro tipo di gioco e c'è un motivo molto specifico per questo che ci porta al secondo punto che ho intenzione di rimarcare cioè che quando parliamo delle culture il gioco di ruolo non si intende dei concetti monolitici ma qualcosa di molto più fluido in questa serie io ho seguito la definizione del retired adventure come vi dicevo trovate il documento originale linkato qui sotto però dovete dare per scontato probabilmente sono io che l'ho dato troppo per scontato che stiamo parlando di un fenomeno culturale non stiamo parlando di un fenomeno fisico i confini tra una cultura e l'altra sono estremamente labili e anche che cosa è compreso in una cultura è basato su delle osservazioni statistiche non su dei principi scientifici verificabili nessun tavolo a cui vi siederete o giocatore con cui giocherete sarà mai esattamente inserito in quello che è l'archetipo di una delle culture ogni tavolo è un unicum e all'interno delle culture ci sono aspetti diversi queste definizioni servono semplicemente per rendere più facile discutere sui concetti di gioco più facile capire che cosa una persona cerca ma non sono delle definizioni perfetti del modo in cui si gioca effettivamente di ruolo there is not true metal sicuramente un tavolo con giocatori reali che giochino a un gioco reale nel mondo reale incorporerà un sacco di elementi dalle culture più disparate potrebbe essere elementi prevalentemente da una cultura rispetto delle altre potrebbero avere aspetti che riguardano tutte le culture contemporaneamente e anche gli aspetti che sono più preponderanti potrebbero variare nel tempo in base al variare dei gusti dei giocatori o anche a qual è l'effettiva composizione del party un party che ha iniziato a giocare assieme quando avevano 16 anni ha continuato a giocare assieme per i 30 anni successivi sicuramente adesso dopo 30 anni non gioca come faceva 30 anni fa e se questo party si è diviso in vari parti ogni persona in quel party avrà portato nel suo nuovo party solo gli aspetti che lui riteneva più importanti di quello che giocavano assieme oltre a non esistere confini netti tra una cultura e l'altra anche al loro interno le culture in realtà sono molto più fluide di quello che può sembrare semplicemente dalla descrizione generica dei loro tratti soprattutto nelle culture più grosse come quella trad e quella osr all'interno della cultura stessa ci sono tutta una serie di corrienti di pensiero e fazioni che vanno a concentrarsi molto di più su alcuni aspetti a discapito di alcuni altri il trad sulla carta è famoso per la sua volontà di stretta attinenza al regolamento e per le sue storie orientate proprio sulla narrazione lineare la quest il railroad tutto quello che rientra nell'ambito proprio della narrazione tradizionale questo non vuol dire che non ci siano un'infinità di tavoli che in non si concentrano su questi elementi esistono tavoli trad che in realtà non sono particolarmente fiscali sulle regole anzi magari usano un sacco di varianti oppure vogliono proprio che il master intervenga continuamente per modificare le regole nel caso emerga una situazione senza magari neanche andare a vedere sul manuale se c'è una regola già scritta per quello che è un atteggiamento estremamente usr e ci sono altri tavoli che non usano una griglia tattica delle miniature per muoversi sopra anzi non sono neanche particolarmente interessati al combattimento tattico fanno grandi storie basate sui personaggi in cui magari passano intere sessioni semplicemente a parlare tra i loro senza mai tirare neanche un dado che tecnicamente dovrebbe essere un aspetto molto più vicino agli story game quando ne abbiamo discusso all'interno della mia comunità molti master hanno detto di aderire alla corrente neo tradizionale che adesso sta diventando maggioritaria la maggior parte di loro però ha detto che erano perfettamente pronta a interrompere o rifiutare l'idea di un giocatore se questa fosse andata a rovinare la storia che in realtà è proprio un atteggiamento da trad solo che non prevedevano avventure particolarmente complesse non prevedevano un particolare railroad quindi rientravano comunque nel neo tradizionale se volete essere fiscali non erano né l'una né l'altra cosa ma entrambe contemporaneamente le culture non sono organizzazioni formali sono raggruppamenti puramente concettuali che rendono più semplice ragionare e discutere quando si parla di gioco di ruolo e tra l'altro non sono neanche monoblocchi statici al loro interno la presenza delle varie sottoculture può portare alcuni aspetti di una specifica cultura essere preponderanti in un determinato periodo per poi diventare del tutto trascurati in un periodo successivo per questo come vi dicevo all'inizio è estremamente difficile associare uno specifico framework di regole proprio uno specifico manuale di gioco a una specifica cultura perché le culture sono aspetti ideali e dinamici mentre le regole sono regole per definizione sono concetti statici nel primo video di questa serie ve lo lascio qua se dovete andarlo a recuperare quando abbiamo parlato del trad abbiamo detto che si è evoluto assieme agli altri dal metodo classico all'inizio il gioco era molto più orientato verso alcuni aspetti poi pian piano i giocatori hanno cominciato a insistere sempre più sugli aspetti della narrazione e una volta che quella che era la cultura classica è mutata per dare origine alle altre culture a quel punto sono arrivati manuali come call of tulu come dragonlands che hanno reagito al fenomeno fornendo ai giocatori nuovi regolamenti per la cultura che però si era già sviluppata prima avviene il mutamento culturale poi in seguito usciranno dei manuali che lo rappresentano come ho detto nel titolo i manuali sono in ritardo in questo periodo storico stiamo vedendo l'evoluzione e il rafforzamento della cultura neo tradizionale e molto spesso quando si parla in neo trad lo si associa alla quinta edizione idnd perché quella più utilizzata nell'ambito di quella cultura ma la quinta edizione non è un regolamento neo trad tra l'altro è uscito che la cultura neo tradizionale era ancora in fase embrionale è uscito per essere una rivisitazione con una matematica meno pesante della 3.5 per venire incontro a un pubblico più vasto di giocatori la cultura neo trad la semplicemente adottato ma è probabile che tra dieci o vent'anni quando si penserà a il manuale neo trad la quinta edizione non verrà mai neanche citata allo stesso modo di quando si parla di trad viene citata la 3.0 la 3.5 idnd per quanto il primo manuale trad tecnicamente è dragon lens per l'advance che però oggigiorno non viene praticamente mai neanche riconosciuto come manuale trad so che può sembrare paradossale ma se ci riflettete in realtà ha perfettamente senso un manuale ha bisogno proprio di tempi tecnici per essere concepito scritto testato stampato pubblicato e quindi non può esistere un manuale che rispecchi effettivamente quello che è lo stile di gioco contemporaneo a voi mal che vada quel manuale per quanto l'abbiate appena comprato sarà vecchio se va bene di diversi mesi molto più probabilmente diversi anni tenete conto che anche fattori totalmente esterni apparentemente slegati potrebbero avere effetto su come le culture mutano e si evolvono una nuova moda un nuovo fenomeno culturale una nuova tecnologia potrebbero effettivamente cambiare in maniera anche pesante qual è l'atteggiamento che le persone hanno verso un determinato gioco o verso uno particolare modo in cui si conduce un determinato gioco ora io non pretendo di conoscere il futuro come si evolveranno le culture in futuro ma giusto per fare un esempio per capirci quando otto anni fa io ho aperto il canale giocare in telepresenza era qualcosa considerato estremamente di nicchia estremamente raro e in realtà anche molto avversato la maggior parte della gente giocava in presenza e riteneva che giocare non fisicamente tutti seduti al tavolo non fosse quasi neanche gioco di ruolo quello dal pensiero dominante dopo otto anni con una pandemia di mezzo adesso i tavoli da gioco virtuali sono estremamente diffusi totalmente accettati e anzi probabilmente ci saranno persone che hanno giocato molto più a un tavolo da gioco virtuale in telepresenza che fisicamente seduti insieme agli altri membri del loro party ho parlato con più di un giocatore estremamente giovane che ritiene il giocare in presenza qualcosa che si fa agli eventi alle fiere ma il suo gruppo di gioco da quando ha iniziato negli ultimi due o tre anni non è mai esistito contemporaneamente non sa neanche dove stanno effettivamente i membri del suo party il fatto però che il gioco si sia sempre spostando più sulla rete e il fatto che la maggior parte dei giocatori adesso giochino dal proprio computer da casa sua e il gioco in presenza sia considerato uno degli aspetti del gioco di ruolo sicuramente porterà delle ricadute anche sul mondo del gioco di ruolo se una volta un giocatore era limitato alle persone che fisicamente potevano raggiungere la sessione settimanale adesso potenzialmente qualunque giocatore di ruolo può virtualmente giocare con qualunque altro giocatore di ruolo sul pianeta questo sicuramente porterà potrebbe portare per esempio le culture a riavvicinarsi dato che prima ogni tavolo faceva un gruppo a parte ma adesso gente che si sposta da un gruppo all'altro diventerà sempre più frequente questo però potrebbe avere conseguenze anche sul modo pratico in cui i giochi di ruolo vengono scritti le regole sono fatte sempre pensando che saranno poi degli esseri umani che devono applicarle ma se il gioco di ruolo si sposta presvalentemente su una base informatica dove tutti i calcoli difficili possono essere fatti dal computer a questo punto il regolamento stesso potrebbe essere scritto nell'ottica che molte delle cose non verranno neanche fatte dai giocatori ma demandate alla macchina magari ci saranno regole molto più stringenti e molto più delineate su cose come la linea di vista il combattimento tattico il carico trasportabile perché sono tutte cose che non devi più tenerti a mente o scrivere sulla scheda semplicemente inserisci i valori nella scheda automatizzata e sarà il computer ad avvisarti se puoi colpire il nemico se stai spostando troppo peso questo potrebbe essere estremamente utili per esempio nei giochi tradizionali potrebbe però portare dei problemi oggettivamente seri a tutto quello che è lo sr in cui c'è la pratica che il master debba inventarsi regolamente si va avanti molto facile se si è fisicamente un tavolo ma per farlo quando sia un tavolo dal gioco virtuale la cosa diventa più complessa perché il master non solo deve inventare la regola ma poi programmarla nel computer per dirla molto semplice magari esisteranno programmi apposta però sono competenze che il master dovrà avere e non necessariamente tutti potranno farlo quindi magari il movimento tutto quello che è lo sr andrà a orientarsi magari su altro su gli aspetti più estetici o magari comincerà a implementare molto più pesantemente linee narrative e cose del genere o magari al contrario avrà un movimento reazionario e quindi diventerà di tutte le correnti che ci saranno tra vent'anni l'unica che si oppone totalmente all'uso dell'informatica e giocheranno sempre solo in presenza come è in questo momento una delle principali aspetti del Norwegian LARP che tendono molto più alla fisicità delle cose magari i sistemi informatici potranno permettere di avere gruppi molto più vasti perché il master sarà aiutato da un IA a gestire le cose o al contrario magari esisteranno intere gem session di soli master che improvvisano e programmano un regolamento e poi lo fanno provare a gente a caso che arriva da internet cosa sarà il cambiamento non possiamo saperlo ma sicuramente considerate che tutto quello che noi oggi facciamo tra vent'anni verrà considerato inconcepibile e obsoleto come molte persone ritengono sia obsoleto e superato quello che si faceva vent'anni fa e probabilmente per l'epoca io farò il video da un ospizio dicendo che ai miei tempi facevamo 40 chilometri nella neve per andare a giocare ad archeresi mentre i giovani d'oggi non sanno neanche più cosa sono i dadi perché hanno delle app per cui lanciano i cellulari integrati direttamente nella rete neurale tra l'altro l'argomento del liberidazione tra il gioco di ruolo da tavolo e i giochi per computer mettiamola così è uno degli aspetti importanti del mutamento culturale che stiamo avendo quindi adesso devo ancora organizzarmi ma se tutto va bene nella prossima intervista non so se già settimana prossimo tra qualche settimana avremo con noi un esperto a parlare specificatamente di quello nel frattempo la parola sta a voi scrivetemi qua sotto nei commenti se voi utilizzate tavoli da gioco virtuali se invece siete rimasti indietro o quale secondo voi sarà il reale cambiamento che il gioco di ruolo vedrà nei prossimi decenni ovviamente come sempre se avete domande dubbi perplessità scrivere tutto qui sotto vi chiedo solo per favore perché ci sono stati degli incidenti mettiamola così capisco che voi siete molto attaccati a qualunque sia la vostra cultura ma rispettate le opinioni degli altri comunque se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate il link al server di disco al gruppo di telegram dove facciamo poi discussioni che sfociano in video come questi per il resto io sono il master kai e noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao